Cioè non si può nel senso che c'è la corda che vi trattiene per sicurezza Sì ma prima di salire si deve fare un corso o? No, basta una breve spiegazione iniziale E' una parete per i bambini Ah no, mi immagino per esperti e tutte quelle che hanno 45 Beh oddio non tutte Alcune pareti sono anche inclinate sicuramente Sono pareti magari per esperti noi abbiamo queste prese Qua sono buone Questa è buonissima Questa è buona Ma quello si tratta anche di trovare il sol E di salire di arrivare vicino Ma ho visto che ci sono anche le gare Perché ho visto che salgono come velocissimi Ho visto per te Dipende da che gara, da che specialità si fa Quella dove salgono velocissimi si chiama Aspino Dai Quanto mai Quanto mai hai visto due parenti ubali nel mondo? Ma sì io capisco Due salite ubali Ma infatti è arrampicata Eh non è arrampicata E' una sassistica stermini Tu lo sapresti fare? Quando vuoi Quando vuoi e lo faccio Quando vuoi? Sì certo Lo faccio in stadio Ok Vai Faccio come una salita normale Ok Ok Come calzature l'ideale se le vengono scampi tra le vostre O almeno resistenza Sì Medio di certo degli scarponcini Scarponcini Anche poi sono buoni però così Sì sì ce li ho anch'io Sono buoni scarponi Ce li ho anch'io Nel senso sono Qualità sono buone Sì sì Anche quando vai nel posto vengono Ah ecco voi lo trattenete con la corda Scusa Le date lo spazio sufficiente per salire e scendere Se vi capita un 100 kg cosa fate? Buongiorno 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 Se io Poi Voglio Cosa Buongiorno Adesso vediamo Vedere il bambino che sale Eh? Sali tu giovanotto No Ha detto di no beh a vederle così sembra facile insomma via ho detto sembra ecco prima c'è tutta l'imbragatura non è mai caduto nessuno no perché trattenete sempre voi con la corda non c'è una prima volta non oggi non ci sarà una prima volta vuole provare? sicuramente sì stiamo pensando in compenso sale il papà vero? sì sale il papà da una parte e zaccaria dall'altra dai devi fregare il papà capito ti va più in alto? bravo dai venito con questa bella ragazza che c'è mi chiamo daia come ti chiamo? mi chiamo daia come ti chiamo? quando è su c'è un premio? no non c'è il premio ti faccio con la dama ok bene dai c'è un guadagnino orgoglio bravo Remigio signor Remigio mi hanno detto che è bravo si si bravo Remigio gira al collo scuole scuole grazie grazie ebbè io ho parenti di Belluno amici del corona il loro corona e tutto questo è un'altra comunque chi nasce nasce chi non nasce no non è che non in famiglia tutti nasce dai adesso hai il peggiovanotto col papà dai ciao 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 amici del migio ma noi vogliamo vedere anche le signore salire eh mi scusi mi hanno detto che adesso lei sale è vero? signorina prego no ho altro da fare tanto c'è un bel giovanotto che garantisce quella tua economia va tranquillo se cadi no no prego no no non sono non sono non sono adatti comunque si si vengono quello nuovo io solo grazie 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 si dai così si fa coraggio il giovanotto un paio di pantaloni io vi faccio la foto ok intanto l'altro ma ci pensi ma che parete aprile con la piscolina che hai a casa in casa abbiamo un gioco di legno quanti blocchi sono da 6 sei ma sei portantissimo allora questo è un vero braccio è un po' 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 ho quattro facciamo la canzone dietro poi l'hanno che ha iniziato grazie che cosa è bello è un po' questo sta fuori qua ciao guarda che arriva bravo bravo guarda che coraggioso guarda che coraggioso bravo vai vai Grazie per la visione bravo bravo vai a prendere papà dai bravissimo bravo 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 il papà fa spiderman no non c'è niente di là e quella è una nuova tecnica per scendere ci riprova? il giovanotto ci riprova bravo dai bravo 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 eh guardiamo quattro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, hai visto? Non ti puoi parlare. Prova da sotto. Dai, ok. La mamma dice di lasciare. Prova. Sotto siamo qua. Prova da sotto. 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 Prova da sotto.